tesoro hai voglia di bere un cocktail? si certo! ok allora ci penso io e benvenuti a una nuova puntata di io non so cucinare ma ci provo io sono chef urbio e come tutte le settimane vedremo come preparare qualcosa di buono oggi vedremo come preparare il cocktail dark lady la tentadora questo è un cocktail fatto apposta per voi voi che magari a casa avete una camicia bianca a righe con sopra delle palme che fa anche abbastanza schifo ma naturalmente questo non conta adesso chiamiamo Manuel innanzitutto ci vuole dark lady la tentadora un bicchiere da cocktail uno shaker e un bicchiere da amaro oh se non lo avete arrangiatevi pensate alla dark lady del bicchierino da amaro lo mettete nello shaker un altro bicchierino di vodka io non ce l'ho con uno spremiagrumi spremiagrumi e te l'ho detto adesso prendete un bicchiere da cucina trovate un uovo e prendete solo il tuo che inserirete nel bicchiere da amaro che andrà inserito all'interno dello shaker e shakerate tutto insieme o ci provate se non siete capaci shakerate non ho l'uovo ma va bene così va bene ma dai non è possibile pensate tutto nel bicchiere da cocktail va bene ok che va mai sto schifo qua ma lì era già pronto dai no dai non è possibile una cosa del genere dai ed ecco qua il cocktail pronto non ce l'ho il limone ma dove lo prendo io il limone scusa se non siete capaci a fare il cocktail fate meno di farlo sorella no no veramente vado al bar va bene andiamo andiamo lui non sa cucinare ma ci prova